E rieccoci tornati finalmente con un nuovo video di spacchettamento di carte di Yu-Gi-Oh! In collaborazione con Konami, oggi andremo ad aprire il nuovo set in uscita il 4 maggio di quest'anno, quindi tra pochi giorni sto parlando di Accesso Cyber Tempesta, con un bel box da 24 bustine, 9 carte per busta. Grazie Konami per questo nuovo box da aprire in collaborazione, andiamo ad aprirlo. Eccoci qui con il nostro box e possiamo vedere subito qui davanti la nuova versione del Drago Firewall che potremo trovare all'interno di questo set, che contiene tra l'altro 10 secrets, vedremo quali riusciremo a trovare noi. Pellicolina tolta, ed eccoci qua con il box. Era da un po' che non facevo uno spacchettamento di Yu-Gi, è vero, molti di voi me lo stavano chiedendo, è vero. Eccoci qui, ed è tutto vero. Prima fila tolta, andiamo ad aprire le nostre prime 12 bustine. E poi faremo le altre 12. Ecco il nostro pacchetto, tra l'altro ci sono i loghi del 25esimo anniversario, perché adesso si sta celebrando appunto questo fantastico anniversario, 25 anni. E via con la prima bustina. All'interno di questo set, a parte va bene il Drago Firewall, che già abbiamo visto sulla cover, potremo trovare anche carte di archetipi che già conosciamo benissimo, e anche delle carte nuove di questi archetipi. Ma andiamo a vedere. Riformulazione Mannadium, carta contro trappola. Huli, la Mikanko gioiello. Rinforzare, Danza Mikanko, Maio Washidori. Mikanko, come avete visto, presenti. Così come sono presenti le carte Tel Cavaliere, infatti troviamo subito una magia super continua. Tel Cavalieri Costellazione. Ferro Maiale contro Piolo Recinto, una magia rapida. Bella Arthur, che tra l'altro mi piace molto. Samurai Super Pesante, Monaco Benkei, ci sono anche i super pesanti. Intatta Dinomorfia, contro trappola. E Sinfonia, Solfaccordo, magia rapida. Primo pacchetto molto easy con la nostra bella Super. Andiamo quindi ad aprire il secondo. Conosciamo benissimo il pool dei box di Yu-Gi-Oh! Quindi infatti sono molto curioso di andare a vedere quali rare segrete troveremo. Nuova Frontiera, caduto di Argyros. Cavaliere Moissa, il Generale Kometa. Sainet Rollback, super rara, rapida. Pendente Pendulum, Orgoglio d'Oro, pedale a tavoletta. Difensore del Sogno Nemleria, O'Rehler. Spezza Heart Mannadium, molto bello come nome tra l'altro. Un misto tra italiano e inglese. La terza è sempre quella buona, vero? Vediamo. Samurai Super Pesante, animagia potenziatore. Kitsuni Kitsunebi. Circuito Sainet. Huli Lamikanko Gioiello. Il Bistial Aluber. Tracce Trappola. Hatsugai. Torre dei Sogni della Principessa Nemleria. Purreli. Purre Lili. Ci sono anche i Purreli. E con questo concludiamo anche il terzo pacchetto. Forse non era proprio il terzo. Ma magari il quarto? Chi lo sa. Entusiasta Orecchie da Coniglio. Fusione Duplicazione. Samurai Super Pesante Motocicletta. Difensore del Sogno Nemleria Kuet. Rinascita del Settimo Imperatore Super Rara. Axtra Katsira. Memoria Sonnata Purreli. Una bella magia rapida. Pendulumun. E Duplice Avatar ha un manifestato. Una bella carta fusione. Tra l'altro anche ottima artwork. Questa mi piace molto. Sarà per il fatto che sono comunque carte fusione. Chi mi conosce da tanto tempo e segue gli spacchettamenti di Yu-Gi-Oh! Da tanto tempo sa che io adoro le carte fusione. Sarà il colore viola? Sarà l'effetto nostalgia? Sarà un po' un mix di tutte le cose. Samurai Super Pesante Animagia Potenziatore. Rinforzare. Kitsuni Kitsunebi. Huli. Abscissione Mannadium Super Rara. Saggia Siverso. Ferro Maiale. Samurai Super Pesante Monaco Grande Benkei. E Orgoglio d'Oro Pedale a Tavoletta. Questo set comprende 100 carte. Così come molti altri set. Un numero abbastanza comune di carte all'interno del set. Ovviamente troveremo tanti doppioni. Ma troveremo anche tante belle cose. Ad esempio fusione e duplicazione che non avevamo ancora trovato. E appunto troviamo anche la nostra prima ultra rara del set. Bistial Dispater. 3500 d'attacco. 3500 di difesa. È un drago sincro. Un tuner più un mostro. Uno o più mostri. Drago non tuner. Possiamo scegliere come bersaglio un mostro luce e oscurità bandito. Evocarlo specialmente sul terreno. E quando il nostro avversario attiva l'effetto di un mostro. E questo è un effetto rapido. Possiamo scegliere come bersaglio una carta bandita. Mischiarla nel deck. Poi se l'abbiamo mischiata nel deck. Distruggiamo quel mostro. O se l'è mischiata nel deck dell'avversario. Annulla quell'effetto attivato. E possiamo utilizzarla solo una volta per turno. E via con la prima ultra rara che mettiamo di lato. Non è ancora arrivata la rara segreta. Ma mancano molte bustine. E arriveranno. Arriveranno al plurale. Stiamo aprendo molto molto rapidamente devo dire. Anche perché comunque sì vabbè sono nove carte. Ma ne stiamo già trovando alcune doppie. Quindi andiamo rapidamente. Queen Query. Principessa imperiale. Questa infatti non l'avevamo ancora trovata. Quindi ottimo. Riformulazione Mannadium. Motocicletta. Immaginazioni Mannadium. Ruggito Tribbrigata. Super rara. Rapida. Punizione Spadanima. Il re più luminoso. Piammeggiante. Marchiato. Pendulumoon. E purre lì. Purre lì lì. Nuova bustina. Abbiamo già tra l'altro finito quasi la prima metà. Che rapidità. Sogni d'oro Nemleria. Tigre Mondo Virtuale. Fufu. Un bel Wyrm Exis. Di Salvar... Di Salva Wyrm. Siberso. Una bella fusione. Con un nome un po' complicato. Ma ce l'abbiamo fatta egregiamente. Duplex pienamente attivo. Tel Cavaliere Altairan. Una bella super rara. E finalmente troviamo anche dei mostri. Tel Cavaliere. Ferro Maiale. Sakitama. Tracce Trappola. E Sinfonia. Sol Fakord. Chissà se riusciremo a trovare la prima rara segreta all'interno della prima fila. A gancio doppio. Circuito Sainet. Quinquery. Danza Mikanko. Eccola qui. Oh ma me le sto chiamando. Incredibile. Orgoglio d'oro. Rotola Palla. Psichico. Effetto. Con 1800. 1600. Se i nostri life points sono inferiori a quelli del nostro avversario, i mostri psichico dà sempre effetti basati sui life points e ci piacciono così, possiamo evocare specialmente questa carta dalla mano. Durante la main phase, e questo è un effetto rapido, possiamo evocare tramite fusione un mostro fusione orgoglio d'oro dal nostro extra deck, utilizzando mostri dalla nostra mano terreno come materiale. Possiamo utilizzare questo effetto solo una volta per turno. E vai con la prima rara segreta. Aaaaaaah. Poi troviamo il monaco grande Benkei, Axtra Kastira, Pendente Pendulum e Punizione Spadanima. Mancano tre bustine al completamento della prima fila. Orgoglio d'oro testa a testa. Studio del Marchiato. Entusiasta orecchia da coniglio. Come dai fatto a finire lì! Oh mio Dio, ma è bellissimo come titolo, è vero! Perché c'è il guerriero Die Graefer. Gioco di parole, fantastico! Troviamo come super, tra l'altro, Baromet, la Sacra Pecora Cespuglio. Un Xyz. Saggia Saiverso. Un reame frantumato in colore. Fantasma Firewall. Iniziamo a trovare anche i Firewall, sperando di trovare la cover, che di solito trovo sempre, ma non si sa mai. Non cantiamo vittoria troppo velocemente. Samurai super pesante. Furtivo, che almeno per questo set è nuova. Adesso che ho chiamato la cover. Avevo chiamato la foil prima, abbiamo trovato la ultra. Avevo chiamato la secret, abbiamo trovato la secret, ho chiamato la cover. Vediamo. Nemleria sognante, intanto. Troviamo come Pendulum, come super di pacchetto. Bestia nuvola dorata Malong, sincro. Prodigioso, abominio, arlechino. E pure Lily, che non è l'ultima. Torre dei sogni della principessa Nemleria, che non avevamo ancora trovato, quindi buono. Ultima bustina di questa prima metà. Oh, piano, che mi cadono tutte le carte. Come dai fatto a finire lì, adoro. Aggancio doppio. Gunkan, sushi nave, pesca del giorno. Ci sono anche loro, i sushi nave. Entusiasta, orecchie da coniglio. E Kittail, bestia mitica della foresta. Che bella Arthur, una bella super con due micini. E ora dovete lasciare un bel mi piace. E beh, ci sono i micini. Bestia nuvola dorata Malong. Orgoglio d'oro, pedale a tavoletta. Sakitama e samurai super pesante, furtivo. Prima metà andata e la secret trovata. Andiamo con le ultime 12 bustine di questa seconda metà. E iniziamo subito, subito. Voglio togliermi lo sfizio della carta cover. Drago Firewall, dove sei? Cavaliere Moissa, il generale Cometa. Duplex pienamente attivo. Telcavaliere, costellazione, caduceo. Iniziamo subito. Prima bustina della seconda parte di bustine. Iniziamo con la ultra rara. Incantatore Xyz, 2500 d'attacco, 1650 di difesa. Due o più mostri di livello 4. Quando questa carta viene evocata tramite Xyz, possiamo scegliere come bersaglio una carta Telcavaliere o una carta costellazione nel cimitero e aggiungerle alla mano. Poi possiamo bandire un mostro Telcavaliere o un mostro costellazione dalla mano o deck e staccare i materiali da questa carta e questo effetto diventa l'effetto di quel mostro bandito che si attiva quando viene evocato normalmente. Incredibile. Non sono mai stato un grande fan dei mostri Telcavaliere, però mi fa piacere vedere che comunque continuano a essere ristampati e tra l'altro in questo set ci sono carte che proseguono anche volendo le combo di alcune precedenti espansioni che abbiamo tra l'altro visto anche sul canale. Adesso che sono state trovate due ultra rare sono proprio curioso di vedere cosa andremo a trovare avanti. Ci sono dieci rare segrete, ma non mi ricordo quante ultra rare ci sono all'interno di questo set, sicuramente un po' più di dieci. Andiamo a trovarle. Intanto troviamo Samurai Super Pesante e Prodigio Waka Ushi, Super Rara, Pendulum, Punizione Spad Anima, Difensore del Sogno Nemleria o Railer, che avevamo trovato tipo all'inizio, mi sa, primo pacchetto, Pendulum Moon e con questo concludiamo anche un'altra bustina. Per ora le foil stanno arrivando, però io ho chiesto una foil in particolare. Considerato che in questo pacchetto non ci sono le ultimate, voglio andare a trovare assolutamente. Adularia della Luna di Giugno, no, non stavo parlando di lei, però è la nostra super di pacchetto. Stavo parlando sempre della carta cover, non vi preoccupate, ormai l'avete capito. Ovviamente trovare la carta cover, dico sempre che è una cosa che mi riesce bene, però se non sbaglio mi riusciva molto meglio tipo qualche mese fa, perché ultimamente non l'ho sempre trovata. C'era un periodo in cui la trovavo sempre. Intanto troviamo A per rivista questa bella apina super rara di pacchetto e poi carte che abbiamo già trovato, no, intatta Dinomorfia, Controtrappola, non l'avevamo ancora trovata, quindi ottimo. Arrivati verso il fondo del box diventa sempre più facile trovare doppioni, però noi cerchiamo di trovare ovviamente anche più carte inedite possibili. Ah, Evil Number! Anzi no, sembrava ci fosse scritto Number, invece è scritto in italiano, non so perché mi è presa questa inglesizzazione, se si può dire. Evil Numeri, una bella carta ultra rara magia, con tra l'altro un artwork semplice, ma bella. Se il nostro avversario controlla uno o più mostri evocati specialmente dall'extra deck e noi no, selezioniamo dal nostro extra deck quattro mostri Xyz numero con ranghi diversi più un quinto mostro Xyz numero, il cui valore del numero del suo nome è pari alla somma dei valori del numero degli altri quattro mostri. Evochiamo quindi specialmente quel quinto mostro numero, e questa viene considerata come un'evocazione Xyz, e attacchiamo i quattro mostri selezionati a esso come materiale, ma non possiamo evocare specialmente i mostri, eccetto altri mostri Xyz numeri, mentre controlliamo questo mostro scoperto. Mi sembra anche giusto. Andiamo a mettere la nostra ultra di lato, e come finale del pacchetto, purtroppo carte che avevamo già trovato, ma va bene così perché abbiamo trovato la ultra, non mi lamento per niente. Prossimo! E tra l'altro sono pure quasi finiti. Rinforzare che avevamo già trovato, sushi nave, Scara Soldato Crudele Saturnas, insetto fusione, super rara di pacchetto, molto molto carina, tracce trappola e torre dei sogni, ok. Manca l'altra rara segreta, e mancano pochi pacchetti, quindi potrebbe essere qui, come potrebbe essere nel prossimo, o come nel prossimo, o come nel prossimo, o nel prossimo, e poi sono finite. Attenzione, Gran Solfacordo Culia, Fatal Ink, super rara di pacchetto, però molto molto bellina, meno male che almeno le super le stiamo trovando tutte abbastanza diverse. Per ora se non sbaglio nessuna super doppione, però adesso che l'abbiamo detto, succederà. Cinque bustine, alla fine. Manca la cover, manca la cover, oh, eccola qui, l'altra rara segreta del nostro bel boxettino, angelo del caos, 3500 d'attacco, 2800 di difesa, un artwork molto molto bella, ma che dico bella, bellissima, guardate qua, poi rara segreta rende sempre 300 volte meglio, un tuner più uno, più mostri, luce o oscurità, non tuner. Per la sincro evocazione di questa carta, possiamo considerare un mostro luce o oscurità, che controlliamo come tuner, se questa carta viene evocata specialmente, possiamo scegliere come bersaglio, una carta sul terreno, e bandirla. Questa carta guadagna questi effetti, a seconda degli attributi originali, dei mostri utilizzati per la sua sincro evocazione. Se abbiamo utilizzato un mostro luce, i mostri sincro che controlliamo, sono immuni agli effetti dei mostri attivati dal nostro avversario. Sgravata. Se invece abbiamo utilizzato mostri oscurità, i mostri che controlliamo, non possono essere distrutti in battaglia. Direi che ci sta anche questo. Poi troviamo Spezza Heart, Difensore del Sogno Nemleria, e no, non è l'ultima, Orgoglio d'Oro, Pedale a Tavoletta, e Duplice Avatar, che avevamo già trovato, se non sbaglio due o tre volte. Attenzione, attenzione, perché il counter dice due rare segrete e due ultra. Secondo me c'è spazio per un'altra bella ultra rara. Vediamo, vediamo. Intanto Votis, super rara, di pacchetto. E meno male che comunque è sempre diversa, quindi stiamo mantenendo duro, anzi stiamo tenendo duro, mantenendo, vabbè. Mancano tre bustine. il discorso orale segrete lo abbiamo archiviato egregiamente. Samurai super pesante, comandante, Shanawo, come super. Non mi ricordo se l'avessi già trovata. Ok, e tutte le altre sì. Due bustine, mi sa che dovremmo rinunciare all'idea della carta cover, peccato per il nuovo Drago Firewall, ci tenevo ad averlo tra le mie mani. Attenzione perché eccola qui, l'altra ultra rara. Samurai super pesante, coraggioso, Masurawo, 2100 e 4000 di difesa. Ovviamente macchina, un tuner più un mostro non tuner. Questa carta può attaccare solamente mentre scoperta è in posizione di difesa, vabbè. Classicone dei super pesanti. Se lo fa, applichiamo la sua difesa per il calcolo dei danni, giustamente. Se uno più mostri i samurai super pesanti che controlli stanno per essere distrutti in battaglio dall'effetto di una carta, possiamo invece distruggere una carta samurai super pesante che controlliamo. Una volta per turno, se il nostro avversario attiva una magia o trappola o un suo effetto, eccetto durante il damage step, possiamo pescare fino a quando abbiamo tre carte nella nostra mano. Molto bellino tra l'altro come carta. Mi dà delle vibes di Guardiano Goyo, non so perché. Pendulumoon, duplice avatar, memoria sonnata e difensore del sogno, ok. È rimasta l'ultimissima bustina. Ce l'andiamo ad aprire. Tre ultra rare, due rare segrete. Direi che il nostro lavoro è stato svolto egregiamente. Andiamo a vedere qual è la nostra super di pacchetto ed è Rugito Tribrigata, che se non ricordo male non avevamo ancora trovato in questo set, però arrivati all'ultima bustina potrei confondermi facilmente. E andiamo a concludere con Sinfonia Solfacordo. What a box! E dunque per questo video in collaborazione con Konami è tutto. Io li ringrazio per avermelo fornito. Ringrazio voi per aver visto questo video. Vi invito a lasciare un bel pollice in su se volete altri spacchettamenti di Yu-Gi-Oh! Io vi saluto. Vi ricordo che questo box uscirà in tutti gli OTS e negozi ufficiali a partire dal 4 maggio di quest'anno, quindi tra pochi giorni. Fatemi sapere quando lo acquisterete e cosa troverete di bello qui sotto nei commenti. le carte che ho trovato io le avete viste e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!